Musica Passo subito assolutamente la parola alla dottoressa Franca Villa che mi dirà di parlare di questa mostra, di questo bellissimo ambiente, di questa banca stupenda Grazie, non è vero che parlerò della mostra perché ne parleranno giustamente noi e voglio fare un saluto a tutti quanti voi e siamo veramente felici di avervi qui con noi come c'è il direttore dell'area Milano Città e Provincia Andrea Lastella e insieme appiatturiamo una bella serata e speriamo appunto che questa mostra abbia l'ultimo per voi Passo la parola a tutti La sede ideale per l'esposizione dei nostri lavori quindi insieme a funzionari di Banca Prossimo siamo riusciti a portare avanti questo progetto e a realizzarlo quindi ringraziamo per il dottor Geretta, la signora Franca Villa, Paladini tutti coloro che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto Sono presentati circa 80 querelli dei nostri soci sono lavori che rappresentano un po' tutte le posizioni artistiche e stilistiche ci sono rappresentate tutte le tecniche della cultura da querelli questo costituisce una possibilità di confronto e scambio tra gli artisti e anche una possibilità per gli esitatori di vedere quanto è versatile questa tecnica che noi tutti amiamo appassionatamente ecco, la versatilità e le possibilità e il crescente che un po' può portare avanti la nostra associazione da più di 40 anni, 42 per esattezza, opera in Italia e attualmente con circa 446 soci una ventina di simpatizzanti e alcuni soci onorari qui avete visto all'entrata tre esempi grazie 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 grazie